preghiera a san giuseppe moscati nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o san giuseppe moscati medico e scienziato insigne che nell'esercizio della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione donaci sanità fisica e spirituale intercedendo per noi presso il signore allevia le pene di chi soffre dai conforto ai malati consolazione agli afflitti speranza agli sfiduciati i giovani trovino in te un modello i lavoratori un esempio gli anziani un conforto i moribondi la speranza del premio eterno si per tutti noi guida sicura di laboriosità onestà e carità affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri e diamo gloria a dio nostro padre amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen